In questi anni mi sono spesso occupato della linea ferroviaria Mantua-Milano, dei suoi problemi e delle sue criticità. Ce ne sono occupati in tanti e anche lo stesso Maroni si è preso più volte degli impegni e ha firmato dei protocolli di intesa per migliorare la linea, per migliorare i binari, i treni e le stazioni. Non sempre questi impegni sono stati rispettati, più che altro sono sempre mancate tutte le risorse necessarie e gli interventi sono sempre stati finanziati pezzettino per pezzettino. Durante la discussione in Consiglio regionale del programma di mobilità e trasporti ho sollecitato Maroni a trovare le risorse necessarie per portare a termine gli interventi previsti nelle scorse pianificazioni. E in più sono riuscito ad ottenere che il raddoppio completo dei binari della linea Mantua-Milano venga inserito nero su bianco nella programmazione. Certo, ad essere sinceri, questo non è un intervento risolutivo, è un primo passo, è un primo risultato per ottenere nel tempo il raddoppio, anche il raddoppio completo.